buongiorno a tutti ciao ragazzi ciao ragazze bentornati sul canale oggi vi voglio proporre questo trucco fatto con la primissima palette di puro bio ovvero questa qui che io adoro e ho usato esattamente questo blu che in questo periodo autunnale veramente si sposa benissimo soprattutto per chi ha gli occhi castani come i miei lo trovo veramente perfetto per questo periodo autunnale vi faccio vedere più di vicino il trucco spero di comprare prossimamente gli altri colori che sono veramente stupendi poi qui sopra ho messo un rosa matte di wicon l'importante è anche illuminare questa parte qui che abbastanza importante perché comunque serve a risaltare ancora meglio il trucco poi ho messo comunque un rossetto non troppo acceso questo è di mac e poi un semplice fard rosa abbastanza leggero sulle guance ecco questo è il look di oggi con una punta un punto luce semplice blu vediamo se riesco a farvi vedere il look di oggi allora queste sono delle semplicissime superga di tela con questo leggero a jeans che ho preso mi sembra dalla hubim esattamente questa è la maglia una semplice maglia blu che ha un riccio qui sui lati con questo scollo rotondo niente molto semplice spero che questo video vi sia piaciuto anche per darvi un consiglio su come vestirsi in questo periodo almeno qua in sicilia ancora non è arrivato il freddo 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 gelido e niente io vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo ai miei prossimi video ciao 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 ciao